Consigliere Masci, si parla di sterilizzazione dei cani e dei gatti, prevista per legge, le associazioni ambientaliste insorgono contro il Comune di Pescara. Voi avete recepito questo documento delle associazioni che chiedono cosa e per cosa protestano? Sì, le associazioni animaliste hanno lanciato un appello alle forze politiche, alla Commissione Controllo e Garanzia, perché oggi il Comune sta approvando delle delibere che assegnano fondi ad un'associazione per fare un'attività di sterilizzazione dei cani e dei gatti che invece deve essere fatta obbligatoriamente per legge dalla ASL. E quindi questi fondi, tanti oltretutto perché in tre anni sono circa 70.000 euro, potrebbero essere utilizzati per il mondo animale, per delle attività che invece sono molto più concrete e soprattutto che non devono essere fatte gratuitamente da un organo della Regione che è l'ASL di Pescara in questo caso. Quindi le associazioni che si occupano di mondo animale hanno lanciato questo appello alle forze politiche e noi lo abbiamo raccolto come Commissione. Nei prossimi giorni faremo una Commissione ad hoc di Controllo e Garanzia per segnalare questi abusi che il Comune sta commettendo nei confronti del mondo animale e soprattutto per dire al Comune che utilizza quei soldi in maniera molto più appropriata e non in maniera impropria ed approssimativa come sta facendo perché lo ha fatto già a dicembre quando ha dovuto annullare in autotutela una delibera che assegnava sempre fondi ad un'associazione animalista per delle attività che invece erano già state svolte dal Comune.